E' già partito ormai da una settimana per la maggior parte delle realtà cittadine il Black Friday 2020. Una misura che quest'anno tanti titolari di diverse attività reputano importante. Come altrettanto importanti ed essenziali saranno gli incassi del periodo natalizio. Vista la situazione attuale l'abbiamo addirittura anticipato. Quindi abbiamo cominciato a metà novembre ad attuare tutti gli sconti che sono adesso per il Black Friday e continuiamo fino alla fine di novembre. Si vede un progresso, aumentano le persone, aumentano i clienti. Noi pensiamo e speriamo che sotto dicembre ci sia un buon flusso, se non altro migliore di quello che c'è stato fino adesso. Ci stiamo muovendo abbastanza bene, abbiamo applicato la scontistica in tutta la settimana e aspettiamo notizie riguardanti al 3 dicembre, cosa succederà dopo, le diverse elasticità di orari e quant'altro. E speriamo di sfangarla e di lavorare per il mese di dicembre che è la metà del fatturato annuale. Il movimento comunque è uguale all'anno scorso, indifferentemente di questi Black Friday o no. Forse è più adatto per gli articoli di moda come abbigliamento, calzature, ma nel mio negozio io vedo sempre lo stesso movimento. Sta andando male, sta andando molto male. Ovviamente la gente, vivendo più a casa, non pensa a vestirsi e non pensa a comprarsi accessori, abbigliamento e tutto il resto. Quindi si dedica più magari alla casa, si dedica più magari agli alimenti, all'alimentazione e a tutto il resto. Io personalmente ho già iniziato con Black Friday, un Black Friday più lungo rispetto agli anni passati, tutto al 50%. Molti delle nostre attività hanno iniziato già da una settimana e la chiusura sarebbe la domenica. Diciamo che il Black Friday darà quell'opportunità a tutti di poter recuperare ciò che il lockdown nei mesi ha distrutto. Ci sono delle difficoltà grossissime di magazzino, difficoltà grossissime di pagamenti di tasse e tributi imposte. È quel che serve in questo momento. Forse è venuto fagiolo perché ci dà l'opportunità di riprendere un pochettino di ossigeno. Divide invece l'eventuale possibilità su cui si sta ragionando e discutendo da qualche giorno a livello nazionale che permetterebbe l'apertura degli esercizi anche in orario serale. Io sinceramente non lo so perché qui dalle sette in poi non gira più nessuno. Vediamo. Secondo me non sarà poi così utile. Secondo me l'agenzia già dalle sette in poi non c'è più in giro. Fino a quando c'è questa situazione difficile che la gente al pomeriggio ha paura di uscire il movimento è più il mattino. Dopo le sette in mezzo non c'è un'anima in giro. Sì e no. Dipende dalla gente se ha voglia di muoversi o di fare altro oltre che fare shopping. Staremo a vedere. È tutto da vedere ancora. Se noi potessimo tenere aperto più tardi possibile alle nove e mezza alle dieci di sera sarebbe meglio per noi perché la gente avrebbe più tempo per girare oltre il proprio orario equa punto di lavoro. Se non si muove qualcosa in questo periodo io personalmente l'anno prossimo sarò costretta a chiudere perché tantissime tasse in questo periodo, tantissimi costi e pochissimi incassi. Dimostrazione ancora una volta che chi è che fa i DPCM non capisce come funziona il mondo reale. Io do l'opportunità ai negozi di stare aperti fino alle 22 quando i locali pubblici li chiudo alle 18 e non do l'opportunità neanche di dare oltre alle 16 l'opportunità di poter mangiare una pizza tranquillamente fuori all'esterno e i negozianti tutti mi hanno detto che non serve a niente perché quando chiudono i locali la gente non c'è più.